ciao a te siete su scapi da bull mille like per il prossimo video di analisi tecnica oggi parleremo di bitcoin e tutti gli altri tirimi eccetera parleremo anche del nasdaq il forex di tesla che continua a crollare e niente mille like poi dopo vi parlo anche due cose del libro nuovo è uscito un libro sigla incredibile c'è già il libro comunque me ne parlo dopo allora bitcoin che cosa fa quindi dopo l'ha finito sulla 60 è crollato miseramente sotto anche lema 10 sotto il primo bad quindi questo livello assolutamente no good doveva assolutamente tenere e niente adesso abbiamo fatto chiusura candela sopra quel livello finta sulla lma 10 ieri adesso candellina vediamo vediamo se ce la fa tornare sopra l'ema 10 che sarebbe un minimo di segnale positivo altrimenti insomma andiamo a fare nuovi minimi abbiamo risolto qualcosa abbiamo risolto niente e quindi insomma non c'è non c'è fretta anche il nasdaq fra l'altro sta crollando comunque sì forse bitcoin gli ultimi giorni vedete ieri comunque nasdaq è comunque andato giù ha fatto dei minimi importante poi recuperato invece bitcoin ha fatto in realtà la bella candela vediamo vediamo comunque primo segno è importantissimo chiudere candela sopra lema 10 nel daily guardiamo nel settimanale siamo messi malissimo e ma cinque come vedete non si è riuscito a chiudere sopra nemmeno lema 5 chiudere sopra nonostante questo spike addirittura sopra lema 10 alla fine la chiusura è stato fatto sotto e anche adesso stiamo testando il mensile invece siamo ancora nel bad short quindi non è successo niente per questo che ci vuol tempo e time per 30 minuti vediamo se c'è qualcosa in atto per andare a fare per superare ecco abbiamo un bel livello questo è lema 5 sta facendo le candelline lema 60 è tornato a comandare con lema 5 sotto interessante interessante si potrebbe anche farcela fare una rottura vediamo estremamente trigger quindi questo livello il 16 1895 ok rotto questo livello sarebbe poi il terzo tocco potremmo andare a rompere lema 10 vediamo ce ne sarebbe assolutamente bisogno perché sennò andiamo pericolosamente vicino a questi minimi che sarebbe abbastanza un disastro speriamo anche regga parliamo però di bnb che purtroppo ricordatevi mille like ragazzi è gratis mille like allora bnb qual è il problema di bnb che fra l'altro c'è anche la notizia che ha comprato voyager non per un miliardo l'ha pagato pochi spicci però io non è che abbia fatto un bel commento cioè non sono per in questo momento qua che ogni volta in questa candela qua daily questa candela qua del meno 10 per cento binance ha avuto un problema grosso cioè la gente ha tirato via 6 miliardi da binance lui dice deve avere 60 quindi il 10 per cento solo questa candela quindi qual è il problema adesso sta recuperando lema 10 ancora il comando quindi no good dovrebbe comunque rompere questo bad se rompe questo bad potremmo accelerare con la rottura dellema 10 sarebbe ottimo ma qual è il problema normalmente non sarebbe stato un problema se bnb crollasse di prezzo ok adesso siamo a 250 fra l'altro è un livello molto importante anche se fosse andato a 100 addirittura 50 non sarebbe stato un grosso problema normalmente ma adesso è ogni volta che fa una candela grossa la gente ha paura ha paura che possa proprio fallire e quindi tira fuori i soldi e indebolisce binance ok questo perché questo è dovuto all'implosione di ftx quindi che che binance scenda di prezzo non sarebbe stato un problema ma adesso ogni volta che scende si ha paura che possa implodere che possa fallire e quindi in fosse successo prima di infatti anche qua quando è successo qua non c'era qua non è che si pensava che binance potesse non esserci più quando abbiamo fatto questi crolli ok qui sono candele pesanti ok meno 17 per cento qua nessuno ha fatto ha avuto fretta di togliere i soldi da binance ok la differenza di adesso che invece ogni volta che ci sono dei crolli girano i post che insomma sta per fallire eccetera eccetera la gente ha paura perché dice vedete cosa ha fatto ftx adesso capiterà anche binance come capiterà a kucoin capiterà a tutti gli altri e quindi c'è paura come avete visto anche noi anche io stesso ho tolto tutti i soldi ho lasciato solo 5.000 e lo stesso hanno fatto gli altri lo stesso hanno fatto per chi ha i milioni ok c'è paura e questo purtroppo è un grosso problema ed è per questo che io sono contro il fatto che anche se è stato relativamente un affare ha speso poco per poter avere voyager ma io sarei per tenere tutti i soldi che ha a disposizione perché purtroppo se andiamo ad un inizio di a un inizio anno con quella che sarà veramente la crisi che è quello che abbiamo visto per adesso è stato nulla ma quello che potrebbe essere il 2023 potrebbero esserci dei numeri veramente gravi e poi dopo me ne parlo con quando parlerò di tesla in quel caso binance come tutti gli altri exchange avrebbero bisogno di ogni 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 singolo centesimo si parla anche di mercati delle banche normali qua lo leggete non tanto qua si parla anche delle banche normali quindi bce potrebbero essere necessari maggior accantonamenti le banche potrebbero subir maggiore perdite su crediti perché le imprese le famiglie potrebbero avere difficoltà a onorare i propri debiti cioè cos'è che sta dicendo in pratica col fatto che sono aumentati i tassi adesso chi ha un mutuo spende molto di più chi ha dei prestiti spende molto di più non è che guadagna di più e quindi compensa spende di più e basta quindi ha meno soldi per poter spendere nell'economia addirittura potrebbe arrivare a non avere i soldi per poter pagare il mutuo o pagare i debiti se la vita va su i soldi che prende sono gli stessi addirittura andiamo in una recessione perde magari il lavoro guadagnerà sicuramente meno perdendo il lavoro anche se arrivano i sussidi dallo Stato ma sarà comunque sicuramente l'80% 70% o quel che è quindi avrà meno soldi potrebbero arrivare a sto punto che non pagano le banche quindi le banche stanno dicendo non gasatevi troppo dopo quando andiamo a vedere i daily non gasatevi troppo con tutti gli utili che avrete in più grazie agli aumenti dei tassi perché i primi a festeggiare sono le banche e di fatti il Q4 e forse anche il Q1 saranno positivi potrebbero il Q4 probabilmente sarà sorprendente per le banche avranno un sacco di utili in più proprio per i mutui che sono andati a to the moon ma finito quella fase lì dopo bisogna fare i conti con la recessione quindi chi è che non sta più pagando chi ha perso il lavoro ce la farà ancora a pagare il mutuo che si è alzato così tanto forse no e nel caso le banche hanno bisogno di accantonare ok quindi non è solo il mondo cripto che però purtroppo sta vivendo un momento molto più difficile ma anche le banche si devono mettere avanti accantonare ok quindi non sta lì a spendere e spandere ma accantonare nel frattempo un'altra cosa ecco con visto che mi si diceva ma le tecniche di bull valgono solo per le cripto no ovviamente valgono per tutti i mercati azionari ma anche questo cos'è questo è oggi questo è sempre questo è mercato azionario bellissimo breakout ma anche per ecco anche per il forex questo è euro jpy ok avete visto che anche il giappone ecco perché è crollato allora il giappone l'euro jpy ieri è crollato del 3% come mai il giappone ha sempre avuto il problema di non avere inflazione di avere sempre zero inflazione o inflazione negativa adesso finalmente ha raggiunto l'inflazione positiva ok bene ma adesso è venuto fuori che il giappone ha paura delle troppe inflazioni se è passato dall'inflazione zero o niente addirittura troppo inflazione e se hanno paura loro che hanno sempre cercato di avere un minimo di inflazione hanno avuto dei problemi ed infatti è crollato la moneta grazie a questo ho potuto fare delle operazioni sul forex avete visto buonissima coppa col manico short guadagno ok tutte le tecniche della bull family valgono per qualsiasi mercato ragazzi funzionano tutti uguali noi cambiamo semplicemente l'EMA mondo cripto 5 10 60 223 mondo azionario e forex 5 10 50 200 fine tutto il resto uguale la playlist per neofiti che comunque in gran parte parla del mondo cripto la stessa tutte le tecniche valgono anche per il forex e per il mercato azionario ragazzi quindi senza nessun problema a forza di sentirmi dire sta cosa ma il forex va per i fatti suoi le tecniche di bull non funziona bene allora ho fatto subito due operazioni ieri per l'altro ho fatto la prima operazione ho detto ragazzi fate 300 like faccio anche la seconda operazione avete fatto subito i 300 like e subito ho fatto anche la seconda operazione visto 300 like io chiedo 300 like fate 300 like faccio subito un'altra operazione non mi sono spostato su forex perché comunque manca il book però ragazzi è per farvi capire e poi comunque fine con uno spread troppo alto insomma non è specializzato nel forex ma comunque chi opera nel forex ragazzi studiate anche voi la playlist per neofiti studiate anche voi le tecniche di trading che abbiamo noi funzionano uguali ok le tecniche sono quelli i ragionamenti sono quelli e mi raccomando poi oggi sono uscito con un libro incredibile quindi date il post su telegram cliccate trovate troverete il link ma anche semplicemente andando su questa copertina e questo è specie diciamo questo libro è specifico per amazon ok perché quando la gente che si vuole avvicinare al mondo del trading scrive criptovalute scrive bitcoin scrive investire sono tutte parole dove escono tutti i libri di fufaguro fate voi la prova e vedete tutti i libri di fufaguro che escono bene adesso ci siamo noi quindi fufaguro salutiamoli ringraziamoli ma avete dato quindi se volete vendere è giusto che aumentate un attimino la qualità quindi noi siamo lì con praticamente è un libro fatto per chi è non della family o per chi comunque è della family che parla anche delle tecniche ma parte praticamente da zero parte per una persona che non sa nulla va su amazon e scrive investire scrive trading esce fuori finalmente anche il nostro libro ok così andiamo a intercertare trovate su amazon e ricordate scrivete una bella recensione o comunque anche se non lo comprate mettete un bel cuoricino e se avete kindle unlimited il libro è gratis ok quindi avete queste cose qua anche col gratis ok e niente trovate comunque tutti i link come al solito ad ogni mio post di trading c'è il link 3 basta cliccare e troverete vedete tutti i link per iscrivervi alla bull family ah fra cui abbiamo raggiunto anche rumble abbiamo anche rumble per l'archivio bull di twitch di casa bull e anche le puntate speciali eccetera quindi abbiamo un nuovo archivio che è rumble quindi qua trovano tutti i link e qua c'è il link del libro ok cliccate e vi arriverà direttamente il libro ok bene detto questo torniamo a capire il meccanismo quindi bnb purtroppo è un casino ogni volta che andremo a fare nuovi minimi quindi se andrà a fare nuovi minimi andrà a rompere questo 220 purtroppo ci saranno altri che andranno a togliere soldi andranno a togliere liquidità e purtroppo è un periodo molto instabile quindi speriamo di poter superare questo momento instabile che normalmente il prezzo non è che se bitcoin va a 5000 bitcoin non c'è più ok bitcoin non è che vi dà una persona come luna che vi dà il 20% se state su stablecoin e quei 20% li prendeva dall'aria fritta ok e quindi bitcoin non è che vi dà qualcosa quindi se va anche a 1000 bitcoin è sempre lì ok e ci sarà un exchange per poterlo scambiare quindi magari anche se non è Binance un exchange rimarrà su o comunque faranno sempre un exchange nuovo o qualcosa quindi il mondo cripto rimarrà ovvio che Binance se la gente ha paura e tira fuori tutti i soldi è impossibile che abbia tutti i soldi lì ok quindi potrebbe implodere anche Binance ok vi lo sto dicendo ve l'ho detto da un po' io stesso ho tirato fuori praticamente tutto ho lasciato solo i 5000 per fare dei piccoli trade e aspettiamo che passa questo periodo prima o poi passerà chi è rimasto su metteremo i soldi lì e faremo trading lì ok io ovviamente spero che rimanga Binance perché è quello dove si fa meglio trading ma vedremo insomma probabilmente se dovesse implodere Binance arriverà Goldman Sachs arriverà qualcuno che poi farà un nuovo exchange insomma comunque ci saremo però un exchange ci sarà sempre però purtroppo c'è questo problema qua con Binance i nuovi crolli la gente magari potrebbe tirare fuori i soldi quindi male per adesso stiamo preparando un livello bad per andare su altrimenti ragazzi qua se va a fare nuovi minimi abbiamo questo livello rimettiamolo 220 attenzione a rialzo invece abbiamo il bad il bad che poi va a rompere bellissimo questo livello fra l'altro eh andrebbe a rompere il bad e anche l'EMA10 e dopo avremo spazio speriamo Ethereum anche qua è messo con ritestare la 10 è fatta una bruttissima accelerazione meno quasi 8% e niente stiamo lottando come con Binance per tornare sopra all'EMA10 ok siamo tutti un po' lì chi più chi meno CRO torna di nuovo sui minimi farà altri minimi incredibile FTT ancora nuovi minimi ovviamente Sam ha deciso di farsi estradare che giustamente in quel carcere lì spera che sia un po' meglio il carcere negli Stati Uniti vedremo sperando che possa marcire in galera Sol Sol vicinissima e minima anche qua rimane debolissimo ETC l'abbiamo perso anche qua vediamo se troviamo qualcosa di contro trend Lazio abbiamo perso anche Lazio togliamo tutti i dati abbiamo perso anche Lazio niente c'è poco da fare non abbiamo avuto il rimbalzo come l'ultima volta ma qua proprio allontanato finita anche i mondiali ecco c'era Paris Saint Germain che con mondiale aveva fatto un bel ritesto al 223 guardate che spettacolo 223 ma è già tornato giù quindi niente tutti i resti ai fan token siamo messi malissimo quindi niente un siti messo un po' meglio ACM, Juventus, Santos niente calcio finito Ancor, Luna, niente tutta una finta, tutta Luna di nuovo tutti i nuovi minimi abbiamo fatto decisamente delle finte adesso siamo tutti pronti i nuovi minimi ragazzi guardate qua pronti proprio per andare a fare nuovi minimi malissimo adesso li tengo rosa per avere tutti insieme ma sarebbe da mettere tutte le bandierine rosse e Gold abbiamo perso speranza anche Gold nuovi minimi disastro, disastro molto più debole fra l'altro di Bitcoin Matic, niente già ma tutto fa schifo tutto fa schifo vediamo se c'è qualcosa contro trend a casa burro abbiamo tratto qualcosa contro trend niente, tutto uno schifo Shiba c'è tutto messo peggio di Bitcoin incredibile si uscì tutto uno schifo Kp3 Mtc GMT vediamo GMT ancora nuovi minimi incredibile mio short partiva da qua da 3.45 dove vi consigliavo lo short play to pawn allora sempre giù mask fa tutto schifo fa tutto schifo ragazzi tutto questo cos'è TVT anche TVT che era un passo da massimi storici non c'è riuscito crollato perdiamo anche lo storage level eh level abbiamo lema 60 vediamo se tiene però qualcosa di potente non c'è incredibile niente andiamo a vedere però aspetta prima di andare di là andiamo a vedere i migliori qualcosa con un daily decente Cocos prima in classifica adesso sta per fare potrebbe fare chiusura candela sopra la 60 sarebbe intelligente non sarebbe male ok o qualcosa sopra la 60 anche BTS interessante perché abbiamo già fatto lo spike con la finta chiusura sopra la 60 anche questo anche BTS potrebbe essere anzi è sicuramente contro trend chiusura sopra siamo dentro Shimano tenere d'occhio power rotto la 10 ha già rotto anche la 60 anche questo NMR no Vib ah BNX dopo il mega crawl dopo che l'ho tolto ha fatto ah l'ha fatto si l'ha fatto l'ha fatto ha fatto il BUD di rottura dell'EMA10 bellissima candela questa è una candela del 25% domani abbiamo di nuovo un altro BUD quindi questo lo possiamo tenere mi dispiace doverlo rimettere di là perché qua faceva veramente schifo una candela l'ho tolto va bene dunque niente il mondo cripto fa veramente schifo ma siamo in ottima compagnia in Nasdaq pure guardate 1 2 3 4 candele di seguito dopo la finta rottura che questo era ottimo ma come ho detto ragazzi non abbiamo risolto nulla ve lo spiegato andate a vedere l'ultima puntata non abbiamo risolto nulla e quindi aspettiamo di vedere i danni del questo aumento dei tassi di interesse vediamo effettivamente coi dati se le società ci diranno che non sono così male o se sono peggio ragazzi sono cavoli amari andiamo a fare nuovi minimi ve lo dico se nel Q4 quindi a gennaio col Q4 i dati sono pessimi le società crolleranno ragazzi quindi non anticipate nulla non ascoltate i fufaguro che basta vedere una candela ogni candela verde hanno festeggiato ragazzi sono ridicoli non capiscono le basi della finanza ok ci vuole tempo con calma questa è la Germania lo telema 10 c'è andato a testare la 50 adesso c'è la 200 che tiene ma attenzione a questa rottura qua perdiamo anche la Germania a questa rottura del 200 perdiamo anche l'Italia abbiamo perso la Russia mannaggia se la Russia sta andando giù miseramente eh questo è un bruttissimo segnale ragazzi io spero che la Russia non vada messa in un angolo perché ricordiamoci che ha la bomba atomica e ricordiamoci tutti che siamo ancora in una guerra dove la bomba atomica può essere utilizzata quindi fate attenzione l'India dopo aver fatto gli all time high tornato giù ritestato l'EMA 50 vediamo se ce la fa tornare su la Svizzera abbiamo perso anche l'EMA 50 Sud America no good ottimo invece nel forex euro dollar l'euro continua a recuperare vediamo però anche qua non ci spererei più di tanto perché poi se iniziano a crollare pesantemente i mercati europei è probabile che il dollaro poi continui l'euro il dollaro continui a apprezzarsi quindi questo potrebbe essere semplicemente un rimbalzo vedete che era 1.24 quindi è crollato questo potrebbe essere semplicemente un rimbalzo fantastico che comunque abbiamo un Viagra ragazzi fallissimo questo chiusura ragazzi del forex chiusura candela qua abbiamo il nostro bad short da domani che rompe l'EMA 10 che è in Viagra quindi dopo abbiamo tanto spazio fino a l'EMA 200 e forse addirittura l'EMA 50 ok con addirittura l'antincrocio vediamo euro pound stiamo facendo le tre cime 1 2 3 che fra l'altro oggi avrebbe anche rotto oggi avrebbe anche rotto teniamolo d'occhio ragazzi cancelliamo tutto e mettiamo questo è un bad daily questo è un bad daily con le tre cime che poi sono 4 1 2 3 4 interessante interessante ok andiamo avanti euro no dollaro pound invece candelette sotto l'EMA 200 euro dollaro australiano ha fatto il suo breakout bellissimo questo livello soprattutto dopo la finta vediamo se tiene l'EMA 10 adesso abbiamo l'EMA 10 questo è il crollo di ieri dove ho fatto due operazioni forex è andato dritto dritto fino all'EMA 200 poi ho fatto la rottura mannaggia che non ho fatto la rottura dell'EMA 200 che ha fatto un bellissimo movimento di rottura e vediamo magari fa qualche giorno di consolidamento poi torna di nuovo short ecco i bancari che appunto hanno fatto il loro viagra vedete il viagra vedete col forex insomma con l'indice vedete il viagra chiusura candela sotto dopo siamo andati a testare l'EMA 60 ok viagra è la tecnica andate a vedere come funziona la tecnica c'è il video su youtube andatelo a vedere e niente quindi i bancari per adesso nel Q1 nel Q4 quindi a gennaio è probabile che escono con dei dati pazzeschi molto positivi perché tutti gli interessi in più che state pagando per i mutui vanno in tasca alle banche come utili quindi è altamente probabile che usciranno dei dati pazzeschi ok ma poi finirà la pacchia proprio perché si ok va bene intascare tutti questi soldi in più alla gente che non ha soldi in più perché non viene pagata di più anzi ha molto meno soldi perché l'inflazione è nata tutto il mondo quindi anche andare a fare la spesa si spende di più e quindi dopo inizieranno ad arrivare quelli che non ce la faranno a pagare e quindi da lì ci aspettiamo un nuovo crollo anche del banco quindi adesso anche lì non rimanete incastrati si è vero che abbiamo tempo fino a gennaio ma farei attenzione sui bancari con cui stanno festeggiando addirittura ogni credit si sta per andare sui massimi questo fra l'altro è un bellissimo livello speriamo che faccia anche il terzo tocco quindi secondo te questo è assolutamente un dritto per dritto terzo tocco e qua e potrebbe via volare proprio perché appunto il Q4 secondo me usciranno dei dati superiori all'attesa secondo me stanno giocando su questo quindi tutti i bancari stanno lavorando bene mercato automobilistico invece fa schifo e vedrete poi dopo ne parlo di Tesla semiconduttori incendiamo tutto tutto negativo anzi Saipem ah oggi ho fatto la bellissima rottura oggi ho fatto un trade avrei potuto lasciare perché facciamo una bellissima rottura ma appena ho aperto pochi minuti ho fatto due chiusure ero più 600 ho chiuso tutto e basta ok di questi tempi è già ottimo non perdere soldi ok quindi quando fate un'operazione guadagnate quel minimo che comunque 600 è tantissimo però comunque guadagnate quel minimo ragazzi accontentatevi in questo periodo qua relax l'importante è non perdere soldi ok quindi o state alla finestra e studiate o se no appena fate un trade che vi va a favore chiudete chi se ne frega Saipem comunque ha un ottimo daily ha un ottimo daily troviamo le linee di oggi e abbiamo due livelli importanti qua punta ai massimi tutto nasce poi da quando è uscito fuori questo è il giorno in cui è uscito fuori il dato di una mega commessa la più grande commessa della storia di Saipem e guardate quanto è cresciuto da allora quindi adesso anche questo uscirà con dei dati molto interessanti proprio perché ha avuto quella mega commessa quindi bellissima rottura di oggi teniamola d'occhio anche per i prossimi giorni Telecom Italia guardate cosa abbiamo un bellissimo bad daily ok il livello dove è adesso è di rottura del bad quindi attenzione teniamola d'occhio vediamo anche anzi vediamo un time frame 30 minuti è già partito qua avevamo la tazzina col manico sta già facendo il suo movimento ma il daily promette benissimo ok vediamo cosa decideranno che qua c'è di mezzo lo stato c'è di mezzo la politica quindi sai che la politica da un giorno all'altro cambia completamente le carte speriamo di no nel caso in cui dove si decidere qualcosa di positivo qua andiamo to the moon race no good tenaris ottimo ottimo si avevamo il bad va già partito livello shimano livello bad da domani che esce dal shimano pirelli nexi vanclair bellissimo togliamo il rosso bello terzo tocco daily di leonardo ragazzi bellissimo bellissimo vediamo 30 minuti se c'è la conformazione no adesso è dritto per dritto comando leva 5 quindi no good vediamo se rimbalza se si se si ferma un attimo questo dopo c'è spazio vediamo se paga fino al 2% vabbè a leva dai qualcosina bello comunque bel terzo tocco vediamo 30 minuti però time per 30 minuti adesso troppo dritto per dritto enel generali ottimo leva 50 tenuto adesso ho bisogno di riposare un attimo mi piace qualche conformazione ecco un'altra conformazione ah monti di paschi di siena si tenetelo d'occhio tenetelo d'occhio il vero livello trigger è questo qua ok che è un terzo tocco quindi vero livello ah poi ho 2 c'è un muro gigantesco quindi il vero livello è la rottura di 2 ci stiamo avvicinando teniamolo d'occhio monello tiscali niente apple apple che ieri ha fatto più ah no meno sta per aprire in positivo però apple sta per aprire in positivo tesla ieri ragazzi ha fatto meno 8 adesso qua ci soffermiamo sta per rimbalzare quindi sta per pochi minuti apre e sta per aprire a più 1 e 45 si vedete no che io su youtube ho fatto un paio di video uno 4 mesi fa e uno un mese fa proprio su Elon Musk andatelo a vedere scrivete sul mio canale youtube scrivete Elon Musk iscrivetevi mettete i like sul video mi raccomando ma scrivete Elon Musk andate a vedere quei due video andate a vedere il video di 4 mesi fa e il video di un mese fa di Elon Musk perché le cose le dico prima ok prima e adesso ha questo problema dove ragioniamo cosa ha fatto tesla ultimamente cioè cosa ha fatto Elon Musk allora è uscito fuori che in cina ha dei problemi ok non dovuto al covid ma dei problemi che la domanda è scesa di fatto ha dovuto frenare per la prima volta nella sua storia la produzione di auto ok adesso sembra che addirittura lo debba fare anche in altri altri stabilimenti quindi adesso ha un problema di domanda ha sempre avuto dei problemi di riuscire a costruirne abbastanza ok ha avuto dei problemi di indebitamento vi ricordo che ogni volta che uscì fuori quei dati con dei buchi cosa faceva vendeva bitcoin vi ricordate andate a vedere anche lì ho fatto i video e e vi dicevo ogni volta nascondeva il buco vendendo bitcoin in teoria ne è rimasto ancora un po' secondo me ha venduto in questo periodo qua vedremo ma sta vendendo e ha venduto miliardi l'ultima volta che ha venduto 3 miliardi e mezzo di di tesla per comprare twitter twitter che prima che lo comprasse non era un'azienda che stava crescendo stava perdendo un miliardo l'anno un miliardo l'anno un miliardo di dollari l'anno stava perdendo e lui l'ha pagato a prezzo strapieno cioè nel frattempo che tutti gli altri crollavano facebook snapchat tutti sono crollati del 70 60 70 80 per cento lui ha tenuto sul prezzo di twitter ha comprato a prezzo pieno un qualcosa che era messo peggio di questi altri che erano scesi del 70 80 90 per cento ok pensando di valore rivoluzionario quando è arrivato lui si sono andate le aziende quindi già perché erano crollati gli altri facebook qual è stato il suo problema è crollato la pubblicità la domanda in pubblicità era crollato quindi è crollato facebook in più dopo facebook aveva il problema anche del metaverso ma snapchat eccetera qual è il problema il problema è che la pubblicità stava già rallentando per il discorso della crisi ok per l'inflazione le aziende appunto hanno più spese dove devi tagliare nella pubblicità ok quindi ha iniziato a tagliare la pubblicità e quindi i social che incassano grazie alla pubblicità si sono iniziato a crollare ma non twitter perché Musk ha detto no vi compro io bene alla fine ha cercato di non comprarlo a prezzo pieno ma è stato costretto a comprarlo a prezzo pieno l'ha comprato adesso è la sveglia per l'apertura del nasdaq l'ha comprato e se ne sono andati con le prime mosse che ha fatto se ne sono andati anche gli sponsor e chi faceva pubblicità se ne è andato quindi aveva già un buco il buco sarà ancora più grande e come copre il buco il buco lo deve coprire vendendo Tesla e quindi ha venduto ancora Tesla ok e in più adesso ha fatto quel sondaggio ridicolo l'altro giorno cosa volete che rimango ceo di twitter oppure no ovviamente hanno detto no andavatene e lui fa ok me ne vado ma prima devo trovare qualcun altro quindi non ha deciso nulla e comunque anche se lui se ne va i buchi li deve sempre coprire lui quindi non è che cambia tanto e quindi Tesla cosa succede quindi Tesla ha il problema che dovrà subire le vendite di di Musk per coprire i buchi e dovrà subire il crollo della domanda che è un problema enorme perché noi non sappiamo e se questo crollo della domanda non è dovuto neanche alla recessione che i dati dovranno ancora uscire e che nel 2023 potrebbe essere molto pesante ma se questo problema è dovuto al fatto che è arrivata la concorrenza è arrivata veramente la concorrenza sappiamo che in Cina c'è una concorrenza spietata ma non solo adesso anche tutte le altre case automobilistiche si sono messe lì Tesla valeva come tutte le case automobilistiche messe insieme adesso tutte le case automobilistiche fanno anche macchine elettriche e adesso li fanno anche bene adesso li fanno anche meglio e quindi è un problema ok soprattutto se cresci così tanto quindi attenzione la cosa potrebbe continuare assolutamente adesso graficamente sta scendendo estremamente tanto avrebbe bisogno di un rimbalzo è appena aperto più uno quindi già sta scendendo e comunque questo è andiamo a vedere anche Apple ha messo male e ha rotto quel livello che non doveva rompere ok e adesso sta accelerando il ribasso anche se sono due giorni che rimbalza ma comunque messo male anche Apple e se perdiamo Apple prossima fermata è questo punto qua e vediamo che succede ok adesso per adesso ha rimbalzato ma anche qua come vi dicevo le vendite di iPhone vedrete i dati molto probabilmente saranno terribili questi qua di Natale e quindi vediamo anche i dati di Apple che è un problema perché Apple conta tanto e fa scendere il mercato niente Tesla sta già andando a fare nuovi minimi e non ce n'è e anche oggi mi sa che sta già per fare cambio colore vediamola in diretta eh sì un minuto sta già andando nuovi minimi in diretta molto no good quindi qua proprio c'è panico totale comunque tecnicamente nel daily è molto in discesa sta comandando lema 5 un rimbalzo ci starebbe ok quindi chi lavora intraday un rimbalzo ci potrebbe stare Tewak l'abbiamo perso Trump l'abbiamo perso quindi social di Trump finito Snapchat ecco andiamo a vedere Snapchat quanto ha perso ok vedete vedetevi ne conto che dai massimi Snapchat ha perso tutto il 90% mi ricordavo o meno 90% ok e andava meglio di Twitter e Twitter è stato comprato a prezzo pieno ok quindi capite il disastro che ha fatto Elon Musk incredibile meta quanto ha perso meta dai massimi dove adesso il 70% ma era arrivato addirittura al 76% ok quindi perso praticamente tutto anche qua Amazon ha rotto livello importantissimo adesso stanno in balza attenzione attenzione nuovi minimi in arrivo quindi abbiamo perso anche Amazon Microsoft sotto l'eva 50% ecco le case automobiliche elettriche vi dicevo che riviano e luci rischiano addirittura di non farcela avevo ve l'ho spiegato nell'altro video rischiano addirittura riviano e luci di non avere abbastanza soldi di implodere e adesso stiamo parlando a fare ancora nuovi minimi quindi ragazzi brutta male deve ancora iniziare cioè probabile che il 2023 sarà un anno di recessione e potrebbe anche essere molto pesante e questi stanno già messi così adesso cioè lucid è già praticamente anzi sta già facendo nuovi minimi lucid aveva fatto quando è riuscito il 500% e da quel massimo ha perso tutto tutto 88% 88% queste sono case che stanno puntando sull'implosione NIO invece sembra un po' più forte ma graficamente non siamo per niente messi bene Nicola ovviamente non ho mai fatto nulla di buono se non spingere giù dalla montagna un finto track un finto camion incredibile cosa sono riusciti a fare è vero tutti gli schimaponzi nel mondo cripto ma anche nel mondo azionario cioè qua hanno spinto un camion finto giù dalla montagna cioè giù dalla collina dicendo che aveva il motore cioè rendetevi conto non nel mondo cripto è il mondo azionario dove lì fanno i controlli hanno fatto una scemenza una schifezza del genere ricordatevelo dove fanno i controlli dove c'è la CONSOB dove c'è la SEC eccetera eccetera hanno spinto un camion giù dalla montagna dicendo che aveva il motore cioè questo è Nicola ragazzi Nicola quando è andato to the moon spingeva un camion giù dalla collina capito quando vi dicono il mondo azionario sì c'è più controlli ma comunque ho fatto l'800% adesso siamo molto meno cioè ha perso tutto praticamente andiamo avanti Ford butta male anche Ford quindi anche le case automobilistiche IMC nuovi minimi Spotify vicino ai minimi questo è un bellissimo livello professional short Space malissimo anche Space questo era lì sul livello quanto ha fatto dalla rottura segnalata un bel meno 13 malissimo malissimo non abbiamo comunque mancano delle conformazioni sono già tutti scoppiati moderna abbiamo moderna che sta reggendo ma non abbiamo più una conformazione qua abbiamo avuto la conformazione non ha fatto il movimento adesso non ce l'abbiamo hood nuovi minimi sulla conformazione Disney noi abbiamo una conformazione magari andiamo a fare il terzo tocco questo lo va già rotto è vero però comunque andiamo a vedere coin coinbase ragazzi qua rischia anche coinbase l'implosione sempre e ancora nuovi minimi qua ha perso tutto coinbase ancora nuovi minimi beyond meat la carne ci stiamo preparando per le polpette le polpette sui minimi intemane come livello mettiamo bel rosso comunque una bella conformazione ragazzi stiamo facendo fatica sono già partiti vedete come fa SC verde qua con BBB rumble oh adesso abbiamo rumble anche noi il social che sta implodendo anche questo però così abbiamo una cosa in più i video che mi banno non li metto lì i video che non voglio mettere su youtube perché comunque sono di super nicchia casa bull eccetera archivi casa bull tutto su rumble ok trovate il link nel link tree come ho spiegato all'inizio rumble ma in borsa sta facendo cagare fa cagare e senza conformazione senza conformazione ha fatto la sua rottura ha accelerato adesso siamo ancora senza niente qua cos'è peloton guardate che bellissimo livello segnalato spettacolo spettacolo ragazzi dobbiamo sempre aspettare delle conformazioni quando non ci sono 11% quando non ci sono questo è bellissimo questo è proprio terzo tocco 1 2 3 bello e preciso fantastico è rotto anche i nuovi minimi bellissimo adesso è troppo tardi ma dobbiamo aspettare quelle cose lì ok conformazioni anche questo bellissimo cos'è questo qua gme nuovi minimi airbnb siamo sui nuovi minimi che ha fatto l'altro giorno non abbiamo più una conformazione nessuna conformazione zoom sta accelerando sui nuovi minimi nessuna conformazione niente qua abbiamo un bad chi è questo qua ah è petrolio mannaggia no ah si qua ho fatto cap and handle quindi la coppa col manico e ha fatto la sua bella rottura vedete io questo l'ho disegnato in questa candela qua ho disegnato anche il manico ha fatto il suo lavoro e adesso però già con questa candela qua c'era un po' del casino qua sta facendo rompendo il bad tornando sopra questo livello trigger quindi qua quando fa chiusura candela già sopra questo livello vuol dire che ha forza ok quindi qua in realtà malissimo possiamo togliere il rosso qua rischiamo che il petrolio vada su vediamo l'argento è incredibile ieri ha fatto più 5% l'argento continua gas per fortuna no gas crolla bellissimo il prezzo del gas anche in Europa ottimo il crollo questo ci voleva il caffè si sta mettendo bene e adesso sta facendo un terzo tocco mettiamolo un terzo tocco sugli spike più o meno questo è un ottimo livello ci stiamo arrivando gold mi strapiace potrebbe essere cioè dovrebbe fare quel che dovrebbe normalmente quello che il suo lavoro è andare contro trend quando crolla tutto ok col covid non è stato così questa volta speriamo di sì nel frattempo però mi piacerebbe che non fosse non partisse dritto per dritto facesse un paio di candele almeno oggi domani magari ritestasse anche la 10 per andare a fare il terzo tocco e allora sì allora allora sì che il gold diventerebbe molto interessante anche se facesse 3-4 candere quindi un bud to the moon come il secondo tocco quindi vale come il terzo questo sarebbe ottimo si potrebbe lasciar correre attenzione gold ok por niente ah questa è piazza affari ah ma dai già tardissimo quant'è quanti minuti 40 minuti niente io vi saluto vi ricordo 1000 like al prossimo video di analisi tecnica dateci un'occhiata al libro anche se non volete comprarlo comunque cliccate sul pollicino che aiuta e alla prossima ciao